buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde riprendiamo per l'anno 2024 la nostra settimanale rubrica parlando di un tema molto importante la mobilità docenti personaleata 2024 2025 tempi e novità domanda numero 1 quali saranno i tempi per la presentazione della domanda di mobilità 2024 2025 ancora non è stato redatto il rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo di mobilità 2024 2025 che inevitabilmente dovrà essere contrattato nel periodo tra la fine del mese di gennaio e il mese di febbraio dopo questo importante rinnovo delle regole sulla mobilità sarà emanata l'ordinanza ministeriale proprio per la mobilità docente personaleata del per l'anno scolastico 2024 2025 che avvierà la procedura di presentazione delle istanze che dovrebbe durare temporalmente per le prime due settimane del mese di marzo 2024 domanda numero 2 i docenti che negli ultimi due anni 2022 2023 2023 2024 hanno avuto un trasferimento all'interno della provincia di titolarità su una preferenza puntuale potranno fare istanza di mobilità territoriale o professionale in questo caso specifico il docente che è stato soddisfatto nella mobilità 22 23 o 23 24 in una preferenza puntuale sarà vincolato per un intero triennio a permanere nella medesima scuola di titolarità e non potrà presentare istanza di mobilità territoriale e professionale per il 2024 2025 solo in caso di soprannumerarietà o di particolari deroghe contrattuali che dovranno essere pattuite il vincolo potrebbe decadere domanda numero 3 i docenti trasferiti a domanda condizionata per l'anno scolastico 23 24 in una sede puntuale espressa in domanda potranno nuovamente presentare istanza di mobilità per rientrare nella scuola di precedente titolarità o in subordine in altra scuola più gradita si chi è stato trasferito a domanda condizionata per l'anno 2023 2024 in quanto perdente posto conserva sempre il diritto di precedenza a rientrare chiaramente nell'ottenio dall'anno successivo al soprannumero nella scuola di precedente titolarità e in subordine in altra scuola di suo gradimento speriamo che le risposte alle domande che ci avete posto sulla mobilità siano di utilità per tutti entriamo in un momento importantissimo dell'anno scolastico per l'avvio del prossimo e quindi tratteremo in questi giorni in questi mesi proprio il tema della mobilità docenti lo faremo attraverso la rubrica domanda risponde per cui vi invitiamo a fare le vostre domande ad avanzare le vostre domande per ottenere risposte al riguardo ma anche con dirette e proprio con lo scopo di spiegare e di parlare delle regole contrattuali e legislative che andranno a regolare tramite l'ordinanza ministeriale sulla mobilità la mobilità 2024 2025 arrivederci e grazie a tutti